Vincenzo Barrea, capogruppo della lista Città di Città, vi siete mobilitati presso i vostri amministratori del centro-sinistra per spingere, per fare in modo che i Consigli Comunali adottassero questo ordine del giorno? Soprattutto abbiamo cercato di inserire un principio che fosse rispettoso alla normativa, che andasse a superare un'impostazione troppo rigida che era stata proposta dal gruppo dei 5 Stelle del centro-destra, che prevedeva esclusivamente la gestione in capo alla Città metropolitana del sistema tangenziale autostradale torinese, cosa evidentemente antistorica. La nostra preoccupazione non è tanto chi gestisce, la nostra preoccupazione è avere le garanzie rispetto alle opere di compensazione, alle risorse a favore della Città metropolitana. Quindi come sarà ragionevole che il Ministero prevederà di fare una gara unica accorpata con la Torino-Piacenza, la Torino e la nostra circonvalazione, a noi interessa che qualunque sia la scelta che farà il Ministero, le compensazioni, le opere, le risorse che questo patrimonio che è della Città metropolitana verranno espresse, siano risorse che vengano indirizzate secondo le scelte e gli indirizzi della Città metropolitana. E sulla base di questo abbiamo già fatto un elenco di opere importanti di compensazione che verrà discusso nei prossimi giorni, insieme, io mi auguro, ai rappresentanti delle aree omogenee con la Regione Piemonte che poi è il player che gestisce questa partita. Per il centro-sinistra Caselli sì o Caselli no? O è un problema che è superabile in un altro modo? Ma per il centro-sinistra il problema è non essere demagogici, quindi il tema del gettito è un tema importante, ma superare i problemi che sono stati posti dai sindaci, cioè i caselli come sono organizzati adesso sono semplicemente un ostacolo e creano un problema enorme dal punto di vista della circolazione all'interno della viabilità. Soprattutto i pendolari che sono costretti a usare due, quattro volte al giorno questi passaggi, scelgono di andare a occupare gli spazi interni alle città. Dobbiamo trovare degli strumenti innovativi e ce ne sono tanti in giro per l'Europa, ci sono tanti esempi come le vignette piuttosto che i pedaggi a chilometri, insomma sono tante le soluzioni possibili e è inutile creare questi ostacoli, queste barriere, tra l'altro per pedaggi che sono normalmente anche di basso importo e che creano soltanto degli enormi problemi di gestione. Quindi in questo senso siamo d'accordo con i sindaci che vanno trovati soluzioni alternative.